Riprenderanno lunedì 21 febbraio gli interventi contro l'erosione della costa sud nel comune di Silvi. A seguito delle ultime mareggiate, i lavori relativi al posizionamento dei massi sono ripresi regolarmente nel rispetto del cronoprogramma fissato dalla regione Abruzzo. Ultimato il pennello di marina di città Sant'Angelo previsto dal progetto generale, il pontone attrezzato per posizionare i grandi massi si sposterà nel comune di Silvi per la realizzazione delle barriere soffolte parallele alla costa all'altezza del villaggio del Fanciullo e procederà verso sud fino a congiungersi con le barriere già realizzate. A oggi sono stati visti e stavano lavorando prendendo il pennello che ci divide da marina di città Sant'Angelo. Lunedì dovrebbero aggiustare un pennello che è di fronte allo stampimento dello skipper per poi con l'arrivo del pontone che adesso sta lavorando sulle scogliere soffolte iniziare a fare le nuove soffolte. Con la realizzazione di queste opere, secondo i tecnici, si creeranno le condizioni per un consistente recupero della spiaggia, per gli stabilimenti balneari della zona fronte Parco Peter Pan, per il circolo nautico e per i vicini hotel. Il programma è che entro l'estate dovrebbero finire, importante che intervengano nelle zone che in questo momento dove stiamo soffrendo tantissimo. Certo, una volta posizionate le soffolte c'è una buona cifra, sono circa 300 mila euro per ripascimento morbido e con le barriere intorno queste dovrebbero rimanere lì dando la possibilità, speriamo, agli stabilimenti balneari di riaprire. La regione Abruzza è in cabina di regia, noi cerchiamo di far notare le difficoltà che ci sono. Effettivamente all'atto pratico, se il progetto non si finisce, ci sono alcuni stabilimenti che veramente stanno soffrendo. Non mi sembra giusto non dare una mano a loro e non far capire alla regione che ci dobbiamo muovere. Questa comunque è un'importante risposta che il Comune dà ai propri cittadini per far sì che l'estate sia un'estate serena e soprattutto poi in vista dell'inverno sia molto più tranquillo per questi stabilimenti? Purtroppo devo dire che non abbiamo dato una risposta immediata, però siamo sul pezzo cercando di recuperare ciò che non è stato fatto dal 2013 quando arriva il primo finanziamento di 4 milioni e 400 mila euro.